Dunque, secondo voi non ci sono più alibi? Sì, sicuramente. Insomma, diciamo che la nostra amministrazione, Seri e la Giunta, e Minardi stesso, in questi mesi hanno concesso veramente di tutto alla Profilas. Un ampliamento senza valutazione di impatto ambientale, uno stravolgimento del regolamento edilizio per concedere una sanatoria per alcuni capannoni abusivi, una dilazione di obblighi e fideussioni di alcune centinaia di migliaia di euro, ecco, a questo punto, per ottenere che cosa? Sicuramente una gran precarizzazione, sia del lavoro, ma anche una precarietà, soprattutto dal punto di vista ambientale e della sicurezza, da come abbiamo visto appunto in questi due ultimi incendi nel giro di alcuni mesi. Noi chiediamo con l'interrogazione che il Sindaco si attivi affinché definitivamente, perché veramente ora non ci sono più alibi, si risolva questa problematica della sicurezza e della tutela ambientale della zona. Noi pensiamo che un incontro decisivo tra i vari enti, i cittadini stessi e l'azienda sia ormai necessario. È vero, è stata installata una centralina, ma questa centralina, a causa del vento opposto rispetto alla sua posizione, non ha registrato praticamente dati rispetto all'incendio dell'altra sera. Quindi, insomma, possiamo ben capire che le azioni messe in campo fino ad ora sono assolutamente limitate. Ecco, per questo la nostra interrogazione cercherà di fare chiarezza e cercherà di spingere il Sindaco, anche ad utilizzare nuovi fondi, perché comunque ad esempio i fondi europei per il risanamento delle aree industriali ci sono. E anche per chiarire definitivamente qual è l'azione che l'amministrazione vuole svolgere, non solo concedendo deroghe, ma anche invece a questo punto dando dei paletti ben precisi per lo sviluppo dell'area.